La testiera numero 13, l'ultimo posto rete della categoria. La testiera numero 13, l'ultimo posto rete della categoria. La testiera numero 13, l'ultimo posto rete della categoria. La testiera numero 13, l'ultimo posto rete della categoria. La testiera numero 13, l'ultimo posto rete della categoria. La testiera numero 14, l'ultimo posto rete della categoria. La testiera numero 11, l'ultimo posto rete della categoria. Voi, vai, bravo, vai, go team! Yeah! Yeah! Voi, vai, vai! Voi, vai, vai! Yeah! Vai, vai! Alla prossima! Grazie a tutti. Questo concorrente è 72.